E' fantastico, Victoria. Ti sei abituata al cambiamento? Adoro stare qui, adoro sistemare i fiori, fare dolci. Ci mandano in pensione. Non puoi spingere l'interruttore e diventare un altro. E che dobbiamo fare? Accetto occasionali contratti sotto banco. No, non riesco a smettere. Ciao, sono Sara. Sono Frank Moses. Ehi! Che succede? Non molto. Ancora un po' più centrale. Sì, così è perfetto. Perché volete uccidermi? Qualcosa non funziona nella testa di questo ragazzo. Quelli della CIA gli hanno dato LSD tutti i giorni per 11 anni. Allora se è così sta benissimo. Fantastico. Sì. Non credete che dovremmo parlare del fatto che la CIA venga usata come una squadra? di assassini? E che faranno qualunque cosa per scovarci e ucciderci? Rimettiamo insieme la nostra squadra. Massimo Mossa, nonno! Massimo Mossa, nonno! Ti ha addestratto Kordesky? Sì! Io ho addestrato lui. Red.